Ciao, sono Nonna Angela. Oggi prepariamo una torta soffice al cioccolato. Ho preparato due yogurt, 60 grammi di farina, 100 grammi di olio di oliva, 130 di farina, una costina di lievito e una costina di vanellina, un limone grattugiato e due uova. Iniziamo a preparare. Iniziamo lo zucchero. Mettiamo due uova e iniziamo a frullare. Iniziamo a mettere le yogurt dentro. Io l'ho messa alla vaniglia, voi potete metterla a piacere. Adesso grattugio la buccia del limone dentro. Andiamo a frullare. Adesso mettiamo l'olio d'oliva dentro. soliamo. Piano piano aggiungiamo la farina un po' alla volta. mettiamo dentro la bustina del lievito. adesso abbiamo finito di frullare, prepariamo la teglia, mettiamo la carta da porno. ne mettiamo metà impasto dentro. Adesso metto un po' di crema a nocciole dentro. Voi potete usare nutella, cioccolato fondente sciolto, quello che volete, a vostro piacere. Andiamo a frullare. adesso lo versiamo sopra. Adesso lo forniamo. Il forno a 170 per 20 minuti. La torta è pronta e la togliamo dal forno. La torta è pronta. Iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche per non perdere le prossime ricette. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.